Peter Benning, un avvocato americano quarantenne, vive le sue affannate giornate di professionista affermato incapace di dedicarsi con calma alla moglie Moira e di seguire con interesse Jack e Maggie, i suoi ragazzi. Recatosi a Londra dall'anziana nonna Wendy Darling, che lo ha allevato, per l'inaugurazione di un ospedale per bambini, Benning al suo rientro a casa scopre che i figli sono scomparsi e che a rapirli è stato il suo antico rivale, Capitano Uncino che, deciso a prendersi una rivincita, li ha portati con sé nella favolosa «isola che non c'è». Frastornato, Peter, che non si ricorda il suo passato di Peter Pan e non sa più volare, raggiunge l'isola con l'aiuto di Campanellino. Lì, sia il Pirata Uncino che la banda dei «ragazzi sperduti» lo prendono in giro perché non lo riconoscono più, dell'ardito Peter Pan di un tempo in lui non c'è alcuna traccia.